Grazie. 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 Grazie a togliere feelful. Grazie. 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 in una maniera convinta, aperta, tant'è che l'associazione ha tantissimo iscritto e quindi è una ricchezza. Dopo facendo scuola anche molto alti. Passi il microfono. Beh, sono deciso in realtà, ma ho una fortuna che ho 50 anni e ancora ho avuto la fortuna di imparare a scorrere prima il dialetto dell'italiano, prima di andare a scuola, all'asilo, eccetera, aveva ancora i nonni vivi, ho imparato a scorrere il dialetto, prima di parole. Al mio fiolo, invece, ho capito il dialetto, perché ho sentito quando andano qua i miei genitori, ma fa fadiga a scorrere. E quindi, le belle, trovè, sto tien, è un forte associazione, perché, come diceva prima, tutti noi, e neanche una volta, ma più volte nella nostra vita, soprattutto sotto il bordello, qualcuno ci ha chiesto di andare a scorrere. E, in chiaro risposta, qui è la nostra vita, le cose più belle, le più importanti. Noi andiamo spesso a cercare tante cose, e poi le cose più belle le abbiamo anche la nostra, tra noi. E quindi, me sono contento di essere nessuno in questa terra, in Romagna, e vi invito a partecipare a questa associazione. Apporta anche salute la regione Emilia-Romagna, l'assessore alla cultura Massimo Mezzetti, la nostra associazione, e chi ci ha sostenuto anche quest'anno. Buon divertimento. applausi A me ha fatto un saluto, parlavi a Cisena, che, come ha detto prima, che sia Damiano che Leonardo, è Romagna, la è cor grande. E allora me ha invitato tutti i Romagna, chi può donare il sangue, a pensare a donare il sangue, perché finché un po' fabbricchente e laboratori, il sangue o con l'azienda, o sennò io manca. Me ha detto quei qui parecchi suon, parecchi ne più suon, però io potrei fare quei cose per noi, perché ho detto che sei suon, ma un po' più di me, perché io ho un'età per di me e sangue, che da 8 a 65 anni, però me credo che tutti potrebbero fare quei cose. Chi lo può fare, me ha detto che l'ha da fare. E qui chi ne può fare, dicono qui chi lo può fare, chi lo fa. Perché vede che siamo o qui è, o sennò ancora un'fabbrica. che in te laboratori. Un bell'applauso a Liana e Fabrizio, perché è in merito proprio, eh? È in merito proprio. Vieni! 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 Vieni!